Questo è un evento raro, dobbiamo farla da 4 anni stasera a cena, io e te, da soli, il tuo compleanno, non ti si caga nessuno? No, domani lavoro, lei fa la festa, domani sera lavoro e torna a Milano. Alba Parietti, icona della televisione italiana, oggi compie 63 anni e ha deciso di celebrare questo importante traguardo con una serata speciale. Dopo 4 anni, finalmente è riuscita a trascorrere una cena intima con suo figlio in un ristorante, un momento di rara complicità e affetto. La festa vera e propria, però, è programmata per domani, quando si riuniranno amici e parenti per celebrare con maggiore enfasi. Il giorno precedente, Alba ha già iniziato i festeggiamenti con un brindisi alla mezzanotte, in compagnia del suo compagno Fabio Adami. Questo compleanno si trasforma quindi in una festa lunga tre giorni, dove l'amore e la famiglia sono i veri protagonisti. Alba Parietti dimostra ancora una volta quanto siano importanti per lei i legami affettivi, dedicando momenti preziosi a chi le è più caro. Un compleanno speciale che celebra non solo un anno in più, ma anche la bellezza dei rapporti familiari e dell'amore che la circonda.